Buongiorno, oggi vedremo la differenza tra buono, bello, bravo e bene. Allora, buono è un aggettivo e si riferisce a un contenuto, a una qualità. Per esempio, il cioccolato è buono. Bello è un aggettivo e si riferisce alla forma, all'aspetto, a quello che noi vediamo. Per esempio, Sandro è un ragazzo molto bello. Bravo è sempre un aggettivo, ma in questo caso si riferisce alle abilità. Bravo può essere utilizzato solo con gli esseri viventi, quindi con animali e persone. Esempio, Gordon è un bravo cuoco. Ultimo, abbiamo bene, che è un avverbio. Quindi, modifica il verbo, aggiunge delle informazioni al verbo. Esempio, lì parla bene italiano. Vedete, bene è vicino al verbo parla. Perfetto ragazzi, avete capito bene? Se sono stata brava e il video è bello, potete mettere un mi piace su Facebook. Grazie e alla prossima. Ciao! 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 Grazie a tutti